Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un'estensione per il tema Divi chiamata Divi Overlays Pop-up. Nei video precedenti, che trovi in parte suggeriti qua sopra e altri all'interno del mio canale, siamo andati ad esplorare uno tra i più popolari temi per WordPress, e stiamo appunto parlando di Divi. Siamo quindi andati a visionare quello che è il sito di Divi per capire bene quali sono le sue funzionalità, quanto costa e come ottenere supporto. Abbiamo provato live il page builder di Divi per comprendere di fatto come nel pratico andremo poi a costruire le pagine del nostro sito. Ci siamo poi soffermati invece su quello che è la vasta libreria di layout messa a disposizione da Divi, dove possiamo con pochi semplici clic importare un singolo layout, utilizzarlo come template per una o più pagine del nostro sito, oppure addirittura importare un intero pacchetto di layout per avere quello che si può definire un sito chiave in mano. Successivamente poi ci siamo invece a spostarsi su quello che è il marketplace di Divi, dove appunto autori di terze parti, stiamo parlando quindi di aziende o di sviluppatori, hanno deciso di intraprendere lo sviluppo di prodotti quali sono appunto temi child o estensione, quindi come quella che vedremo tra poco, tutte quante che gravitano intorno al mondo Divi. Direi a questo punto di non perdere altro tempo e andare a vedere l'estensione scelta per oggi. Direttamente dalla home page del tema Divi, andiamo su quello che è il marketplace e sulle estensioni. Andiamo a vedere l'estensione scelta per oggi, stiamo parlando di appunto Divi Overlay Popups. Questa estensione ha un prezzo di 79 dollari, nel momento però in cui stiamo registrando questo video ha uno sconto e quindi la possiamo acquistare a soli 55 dollari e 30. Come per altri temi child, così come per altre invece estensioni, ricordo che non abbiamo limiti di licenza di utilizzo, ovvero possiamo acquistare questo prodotto e utilizzarlo su quanti siti vogliamo. Inoltre, compreso nel prezzo, sempre abbiamo anche un anno di supporto e aggiornamento. Bene, questo, come si può intuire facilmente dal nome, questa estensione lavora in maniera totalmente verticale su quelli che sono appunto gli overlay o i pop up che si possono aprire all'interno del nostro sito. Naturalmente qui abbiamo la possibilità quindi di creare infinite tipologie di layer o di pop up, attivarle in diversi modi e quindi direi che la miglior cosa che ci resta da fare è quella di andare assolutamente a vedere la demo per capire meglio il funzionamento. Abbiamo infatti i vari tipi di pop up che andiamo a vedere. Abbiamo una tipologia di pop up che può servire per l'iscrizione alla newsletter, come vediamo, quindi abbiamo la richiesta della mail e la sottoscrizione a quella che è la newsletter. Ci possiamo ovviamente integrare con quelle che sono le più popolari, le più popolari appunto plugin, piattaforme di marketing, quindi magari mailchimp, mail app, queste 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 varie mail. Abbiamo poi pop up per promuovere sconti o appunto offerte magari particolari anche qua lo vediamo in azione. Abbiamo per esempio la possibilità di ovviamente andare a indicare quella che può essere una categoria di prodotti o un singolo prodotto. Poi i pop up questi sono solo degli esempi, dei preset che poi noi possiamo andare a naturalmente modificare. Comunque quello che possiamo diciamo l'idea che deve passare è che noi possiamo andare appunto a promuovere prodotti categorie o comunque sconti. Abbiamo poi anche la possibilità di costruire un pop up per quanto riguarda il modulo di login e quindi possiamo andare a creare come possiamo vedere un modulo di login tra l'altro in trasparenza come potete vedere dove sotto vediamo ancora le altre diciamo la pagina che abbiamo in sostanza sotto. Possiamo creare un pop up con all'interno un video quindi come potete vedere qua all'interno parte un video e abbiamo un pop up. Abbiamo un'altra tipologia di pop up dove possiamo per esempio presentare magari quindi vedete come si possono addirittura andare a personalizzare. Qui abbiamo addirittura un pop up che occupa l'intera pagina dove abbiamo la presentazione magari di un prodotto o servizio e come abbiamo appunto la richiesta quindi una call to action per magari lasciare la nostra email. Abbiamo anche un pop up che riguarda l'abbandono di carrelli quindi come sappiamo l'abbandono dei carrelli è materia assai discussa e con la quale si cerca sempre di diciamo contrastare. Abbiamo questo interessantissimo per esempio pop up che naturalmente ricordo sempre possiamo andare a modificare che nel momento in cui magari stiamo per abbandonare il carrello compare e ci offre un ulteriore sconto per magari diciamo incentivare alla nostra alla vendita ecco diciamo. Abbiamo anche invece la possibilità di aprire un pop up all'interno di una nuova pagina quindi qua per esempio ora lo vediamo se triggerato possiamo andare magari ad aprire il pop up nella nuova pagina quindi magari mandiamo in una nuova pagina con all'interno appunto una addirittura una all'interno una pagina quindi abbiamo un pop up che si apre all'interno una vera e propria pagina questo è naturalmente un esempio. Abbiamo poi un pop up che va ad aprire invece quello che può essere un contact form tra l'altro notate anche le varie animazioni che si possono inserire come potete vedere questa animazione molto carina di quando arriva dalla destra questo pop up dove abbiamo la forma di contatto e anche le informazioni di contatto e anche i social sempre anche questo totalmente personalizzabile abbiamo poi anche la possibilità di avere un pop up con quelle che possono essere informazioni qua addirittura vedete abbiamo lo scroll dove abbiamo un intero per esempio menu dove abbiamo tutto tutta un'informativa relativa al appunto al menu quelle che abbiamo visto adesso sono le tipologie di pop up adesso quello che andiamo a vedere invece sono i trigger quindi gli eventi che scatenano che possono scatenare questi pop up abbiamo eventi di tipo automatico che sono quelli che vediamo adesso e sono tipo il time delay trigger quindi andiamo a vedere questo per esempio questo qua un pop up che è automaticamente personalizzato eccolo qua per comparire dopo 10 secondi che siamo all'interno di una pagina quindi in maniera automatica come potete vedere è comparso dopo 10 secondi questo pop up un'altra tipologia invece di pop up sempre automatico è basato sullo scroll della pagina ovvero io sto visitando questa pagina arrivato a un certo punto della pagina intanto noi continuiamo a scrollare arrivati ad un certo punto della pagina il pop up si dovrebbe diciamo eccolo qua si apre un pop up quindi arrivato a una certa parte della pagina a un certo pixel della pagina il pop up va ad aprirsi questo è sempre un altro trigger di tipo automatico abbiamo poi l'ex intent trigger forse il più interessante tra quelli automatici ovvero io sto visitando la pagina nel momento in cui col cursore del mouse faccio per uscire vedete mi recco sulla barra degli indirizzi comunque escono il cursore ecco che compare il il pop up che in automatico magari mi promuove o mi dà la possibilità di rimanere comunque in un qualche modo sul sito ogni volta che tento di uscire compare abbiamo un'altra un'altra tipologia invece di appunto di pop up automatico che ha l'url direttamente l'url quindi cliccando direttamente su quest'url il pop up si apre immediatamente la pagina e successivamente si apre immediatamente anche il pop up quindi questo è sempre per avere un link diretto e questi sono quelli che vengono considerati come eventi diciamo automatici quindi come vedete eventi che vengono scatenati in maniera autonoma abbiamo poi quelli che sono i diciamo gli eventi manuali quindi sono per esempio un link quindi andiamo per esempio a vedere qui abbiamo per esempio magari un link che cliccando su questo link ci fa aprire il pop up quindi qua serve un intervento manuale diciamo da parte dell'utente poi abbiamo per esempio bottoni moduli sezioni quindi per esempio qui abbiamo il bottone naturalmente quindi ovviamente cliccando sul bottone compare oppure un'intera sezione magari cliccando sull'intera sezione compare sempre il pop up abbiamo anche la possibilità invece di cliccare sulle immagini quindi possiamo anche diciamo scatenare l'evento sul click dell'immagine come vedete cliccando sull'immagine parte quello che è il pop up oppure addirittura sul menu di navigazione quindi cliccando su quello che è il menu di navigazione vediamo se adesso ce lo fa vedere in questa opzione direi di no perché è una demo e magari si sono dimenticati di mostrarci il menu link ah no eccolo qua mancava soltanto il il diciamo il il link vediamo un attimo se ce lo fa vedere un se ci fa vedere un click direi di no comunque comunque al click su un appunto su un una voce di di menu oppure sempre su quello che è un link poi di fatto d'accordo quindi qua abbiamo poi la documentazione comunque su come andarlo a configurare bene direi che per quanto riguarda la creazione di questo diciamo l'utilizzo di questo divi overlay pop up al momento è tutto direi che quello che ti resta da capire se questo interessantissimo a mio avviso plugin che ci consente appunto di andare a creare pop up di tutti i tipi e scatenare con i più vari legati eventi può fare al caso tuo quindi o di un tuo cliente e eventualmente valutarne quindi l'acquisto bene mi auguro che tu abbia trovato utile questo video se comunque hai dei dubbi e delle domande lasciamelo scritto qua sotto nei commenti in modo tale che io possa esserti d'aiuto per quanto possibile se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo wordpress, woocommerce, temi, plugin, divi, elementor e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che stavi cercando lasciamelo anche questo scritto qua sotto così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso in ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao